ciao già tutto armi, kit medico, mirino c'ha tutto spona c'è un morto sotto i piedi suoi neanche tira su l'arma e già guarda l'inventario e si tira su tutto e si tira su tutto non gli entrava la roba e cercava cercava di trovare il modo di caricarsi su tutto ma non può perché pesa troppo faceva, aspetta 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 che cazzo aspetta veramente brutto abbiamo fatto venti metri c'erano altri tre morti avanti si è fermato su ognuno di quei tre tutti uguali con le stesse armi ognuno e andava raccogliendo tutto quello che poteva raccogliere e poi lì quando ti spari e già tanto se lo finisci un caricatore, due poi sei morto cioè se ti finisci tre caricatori vuol di che c'erano 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 e abbiamo appena superato la s c'erano era un tizio trovato un tizio con un cappello da pescatore bu frescino ma hai nido no, poco non sdame già riva te cazzaloga dimmi come si cambia il visuale del mirino indovina quattro quattro e aspo destra oh la puoi cambiare anche se non hai il fucile hanno buttato giù un albero anche se non hai il fucile si hanno buttato giù un albero dove stai? adesso sono dentro la casa quale casa? 3 c'era la via bello vedere tutto bello vedere tutto grigio c'è du si ma tu cibo come sei messo non ce l'ho ma sono bugna aie vuoi la prugna non vuoi la prugna dovrei trovare il cibo se vuoi la prugna non cerca da avere quello che non ho fatto a pezzo di prendere l'ardo oh eddo dove stai? no io non la mangio questa carne eddo oh nella casa nella seconda casa nella casa la mangio la carne umana non mi piace troppo dolce eddo fermo cazzo oh oh e rovina l'altra donna ha cominciato bello no c'è un pozzo qua vediamo ho buttato giù qui davanti a te proprio si proprio esattivamente qui da guardie se guardi quanti da stiera ma lo so dove sta sta davanti oh no vedi eccolo sta immutando in tagliaia andiamo andiamo eddo hello oh oh hi what's up andiamo what's up guys hi can i have anything of food raga ditemi descrivetemi come siete vestiti veloci come ragazzi descrivetemi come siete vestiti veloci ah ok 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 bye bye come si è aperta ancora vabbè ma sei tu che spari ma no no t'ha accettato quello lo ammazzo no and ma scappano uno a terra l'altro ok l'altro è dietro zaino rosso vero si si è andato dietro la casa io non vedi i colori eccolo la dietro la casa è andato dietro la casa verde pure a terra no no ah c'è una roba da cibo vieni dov'è vieni dov'è so è sempre in mezzo alle case ah eccolo dove dove la vedi a me? davanti a me no la casa terza casa dietro la roba ok dietro c'è lo zaino rosso ecco sta correndo verso il mare corre verso il mare corre verso il mare corre verso il mare in mezzo al prato sto dietro non ce la faccio non ce la faccio devo attraversare la strada è sceso sulla spiaggia va bene sei tu quello di là le case sì 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 sono a te altezza a te altezza è sceso sinistra a destra dritto come stai tu dritto sulla spiaggia vedi i due alberi vicini? sì a sinistra di quei due alberi ci dritto ok vai a destra qui eh io sono molto svolucido vedi sotto gli alberi sotto gli alberi all'inizio della salita alla fine alla curva del mare davanti a me dritto per dritto sotto gli alberi è scomparso al porto è andato verso il bosco? no a destra c'è il boschetto con gli alberi rossi prima del faro lì sotto sta a destra del bosco all'interno del bosco lato destro allora e mo te faccio a pezzi ma non ho capito perchè hanno dovuto fa tiragli le accettate eh adesso sono morti no Ed gli ha chiesto posso avere cibo poi gli ha fatto posso avere cibo gli ha richiesto la stessa cosa mi ha detto no io voglio cibo dai tu sei fresco corri lui corri veloce io sono pieno eh svengo di nuovo va bene per la quarta volta beh questo era lontano ma ho capito che è andato ah mi serve solo da vederlo eh si si non lo vedo davanti a me no sei tu oh mio aveva roba quello eh c'aveva uno zaino urboso c'aveva una doppietta e scarica eh mi sa te si no ha sparato io ce l'ho fatto poi il twitch ancora si è salvato questo questo è scappato in mezzo al bosco e aveva del lardo che adesso io mangio io l'ho trovato dentro la casa eccolo 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 davanti a me si ponte non corre più sul ponte merda come allagga beh lo seguo tanto ci ha meno fiato di me discio ma mi sa che l'ho preso eh no ha liciato l'ho visto chiarmente andando verso la strada eh prateria adesso lo puoi prendere eh dimmi sinistra o destra allora la tua sinistra è sceso sta andando verso la strada a me mi vedi o più vicino a me eccolo ho preso mi ammazzo tutti in merda vivo c'aveva l'ascia fitta sicuro che era quello si il zaino rosso a me è sembrato diverso il zaino quello mi pare che c'era un elmo da da motociclista questo ha buttato qualcosa se non ce l'aveva lo faccio io a recuperare salve la mia